Solo una volta il mio cavallo mi ha dato un mosso nel collo, solo che c'era venuto il segno, sembrava un labbro di donna, e quando sono arrivato a casa... Oh signora! Aveva un succhiotto grosso così, ma scusa quello è stato petit, il cavallo ha fatto questo, va bene ci crediamo! Scusate un attimo, scusate un attimo! Le mani! Ho visto la mano dopo che sono su in alto! Cosa c'è? Abbiamo la mano tra le camera! I'm sorry! Ma vogliamo che parlare delle lasagne di zucca? No, va bene, va bene! Basta, basta! Dico nel cignale! Loris, vai! Ah sì sì! Ok! Un'ora! Aspetta! Tornato dentro! Bomba! Bomba! Intanto c'è Daniele che sta traslocando casa! Stavo attaccato, mi sta scaricando il pc! Fatevi una domanda e rispondetevi da soli! Esatto! che unisce! Quindi io visto che abbiamo Steve qui vorrei proporne una! Quindi che cosa regaliamo ai nostri amici che ci guardano a casa di coreografie tue? Devo utilizzatela io? Sì! Quella che ti piace di più te la metto su! Non me le ricordo! Non me le ricordo! Qua hai un pezzo di backstage fantastico qui eh! Oh mamma! E un ballo di coppia anche che si chiama proprio Borny Up! Si è a senso di crush! Di Carola, Ramun, Cash Hell, il nome è tutto strano che non capisco mai che là! Ma è carino! Però si hai ragione! Il codice fiscale è quello! No, si! Cash Cash Schop games! Lo sapete che lo taglio tutto questo vero! Lo sapete che lo taglio tutto questo 一樣? Il 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 ilASCLE è il TOE! он è TOE! Non lo so l'inglese Loris traduci te Io non lo so l'inglese Io ti devo aiutare in inglese Cara Barbara ti farò una confessione Noi ormai siamo nell'ambiente del country Da più di vent'anni Eravamo due bei ragazzini Eravamo due gnocchi Io non so più piedi Da quando abbiamo iniziato a ballare Abbiamo cominciato a diventare cubici Quindi quando a volte Anche Tiziano qualcuno Dice mancate che mantenete la forma Sì la forma tonda È una forma Ma noi l'abbiamo acquisita ballando Perché comunque Il nostro terzo Cioè noi siamo un po' come i reggbisti Abbiamo il terzo tempo sempre Prima, dopo e durante Quindi se abbiamo il terzo, il quarto e il quinto tempo Ogni volta che ci troviamo E per i corsi e per le cose Vado allora Come si fa a vederli tutti e cinque? E dai Oh cazzo Come ce la fai sul cellulare? Devi comprare un telefono più grosso Dov'eri? Stavo tirando giù un coso che mi dava fastidio Ah ecco che io stavo parlando Sì perché qua la gente trasloca Mentre io parlo Capito? Va bene? Allora Non ce la faremo mai Neanche stasera 20 minuti di puntata Andiamo Via Va bene Va bene Ok Ok Allora Dunque io ho già pronto carta e penna Vai Io detta 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 Che cosa devo dettare? Una ricetta Diverso E questo faceva sì che le coreografie si moltiplicassero Il problema era quando arrivavano tutto giù Esatto Variante 1, variante 2 E non è detto che ci si arrivava perché non si trova Si passavano proprio Stefano pensa sempre a quella cosa lì Si passavano Stavo dicendo che si passavano realmente ma questo punto mi sembra disproposito Io eviterei di usare questo termine e Marilu Marilu ha abbandonato Dopo questa ci ha abbandonato Svenuti Dove è stata? È stato un black out Si sta scaricando il telefono No dicevo che adesso invece delle battute Pasin dirà gli anni Invece che 24 conti Ho 50 anni Ho 60 Esatto Invece del livello base Intermedio Mettiamo consigliato per Young Approcciabile per i 55 Esatto Però non so se Daniele Non so se Daniele però si fa fare quello che si fa fare Steve Aio Oddio Aio Aio Siamo in zona protetta No 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 Aspetta No Noi li vediamo tutti gli altri Sto registrando e questa è venuta Allora Resumo che sono le difficoltà di quando uno diventa un coreografo famoso Queste sono le problematiche che quando gli chiedono di fare la foto deve stare attento al retro a cosa accade dietro È un po' come è diventato un po' come la Giulietta di Verona sai che tutti vanno a strofinargli il seno perché porta bene Esatto Sì 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 Non avete niente da dire io chiuderei salutandovi ok Deborah su Barbara Barbara Adesso se doveste mettere Amarillo by morning Deborah morirebbe Deborah Ti mandiamo Amarillo by morning dopo in privato di Martinez E poi vedi la Pensa questa cosa praticamente Questa sera sta tutta fine Ciao 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 Ciao